Grazie. Quindi se non mangi il formaggio non c'è problema, se dovessi scegliere di fare un formaggio preferisca senz'altro i formaggi freschi di capra. Dobbiamo solo conoscere qual è il rapporto del movimento vegetariano con delle situazioni tipo le grandi epidemie, l'ABS, l'Abiaria, questa esulina e soprattutto il rivolimento alle vaccinazioni. E anche per i bambini. Dunque, il movimento vegetariano naturalmente considera che tutte queste emergenze sanitarie, l'ABS, l'Abiaria, l'influenza esulina, siano conseguenze dell'ostruttamento che l'uomo esercita sui animali. Il movimento vegetariano naturalmente considera che tutte queste emergenze sanitarie, l'Abiaria, 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 l'Abiaria. Sì, è vero, hai ragione. Pesci, creature di Dio, dattelo di almeno voi, per chi li ha reati. Voi, Caterina, siete messi in opera tutti i giorni. Fatti vedere, su. Piange per i missionari? No, piange per il tacchino. E di sentimenti elevatissimi. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, fratelli. Buongiorno. Buongiorno, schredda scrauta. Buongiorno, sorella Alitra. Arrivi buona ultima. Grazie di avermi chiesto di benedire i vostri amici. Aspettavo questo momento. Perché gli animali della terra sono tra le più preziose creature di Dio. Ci aiutano nel lavoro, ci trasportano, vegliano sulle nostre case e soprattutto ci danno gioia e sorriso. Ricordatevi sempre di sorridere, anche quando sarete dei fanciulli di trent'anni come me. Ora li benedierò e poi tornerò alle mie faccende. Signore, Signore benedici la loro inocenza e quella dei loro padroni. In nomi di Patris, et Fili, et Spiritus Sancti. Amen. Arrivederci. E grazie di essere avvenuti. Arrivederci. 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 Siamo chiesa popolo di Dio Nel deserto dell'umanità, anche nelle tenebre dell'infedeltà, brilla la sua luce in mezzo a noi. Nonostante le malvagità, le menzogne e le ipocrisie, Dio ci offre ancora l'opportunità di tornare a vivere con Lui. È il tempo di grazia per noi, è il tempo di tornare a Dio, è il tempo di credere nella vita che nasce dall'incontro con Gesù. È il tempo di grazia per noi, è il tempo di tornare a Dio, di ridare all'anima la speranza che c'è salvezza per l'umanità. Questo è il tempo della libertà, dal peccato e dalla schiavitù. Tempo di riprenderci la nostra dignità, di creatura, immagine di Dio. Oggi come ieri con Zaccheo, Dio si siede a tavola con noi, e ci offre ancora l'opportunità di tornare a vivere con Lui. È il tempo di grazia per noi, è il tempo di tornare a Dio, è il tempo di credere nella vita che nasce dall'incontro con Gesù. È il tempo di grazia per noi, è il tempo di tornare a Dio, di ridare all'anima la speranza che c'è salvezza per l'umanità. C'è salvezza per l'umanità, c'è salvezza per l'umanità.